Nome? Crasa Camilla E che sezione sei? Quinta Classico Tu hai scelto o quale testo hai scelto? Quello letterario-artistico, sul piacere E come è andata? Come ti sembra che sia andata? Ma almeno penso abbastanza bene, ci ho provato, vediamo Come mai questa scelta? Ma perché era quello che mi interessava di più rispetto agli altri, quindi ho scelto quello I tuoi compagni, hai sentito, hanno scelto più o meno lo stesso tema o c'è stata qualche volta preferita? Tanti, ho sentito quello socio-economico sulla felicità e comunque, o sugli UFO anche hanno fatto Domani c'è un'altra prova? Sì, quella più pesante secondo me, ma sì, oggi ripasserò un po' di regole di greco e boh Quindi niente spiaggia oggi? Eh no, purtroppo...